C'è un governo nuovo che deve agire in una grande emergenza economica e finanziaria. Non serve una maggioranza politica, serve un forte sostegno del Parlamento e un confronto in Parlamento per far sentire la voce dell'Italia in Europa e chiedere un cambiamento di rotta, più crescita, più attenzione al lavoro e allo sviluppo.